Stephen Sutton è morto. Il 19enne britannico malato terminale di cancro non ce l'ha fatta. Divenuto famoso per essere riuscito a raccogliere oltre 3 milioni di sterline a favore della ricerca per la cura dei tumori. Grazie a una campagna sui social network, Sutton è morto nel sonno e serenamente informano i familiari. La sua vicenda ha commosso tutto il mondo.